benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video di nail art sulle mie unghie naturali e andremo a fare un french nero con delle margheritine e niente molto carina come nell'arte mi piace molto spero che piaccia anche a voi e niente adesso vi lascio al tutorial e ci vediamo a fine video ciao 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 eccomi qua ragazzi allora questa qui la nail art è finita e vi devo vedere che mi piace veramente tanto 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 come mi è venuta molto belle il nero con queste margheritine bianche col puntino giallo cioè bellissimo lasciate perdere la mano sinistra a farne un po schifo a parte questo ho fatto un casino però sapete che con la sinistra sono handicappata tanto non riesco però cioè vi faccio vedere queste che è venuta un po meglio molto molto carine mi piacciono veramente un sacco tanto 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 bellissime proprio mi piace veramente tanto e niente spero che questa nail art vi piaccia anche a voi se è stato così mettete il pollice in su se volete sotto il video mi commentate di questa nail art cosa ne pensate comunque molto facile da fare e non ho fatto vedere il passaggio ma ho applicato questo che mi sono scordata ho applicato il top coat matte quando ho fatto il french nero ho applicato dopo che aspettato e si asciugava e tutto ho applicato il top coat questo qui matte per fare ovviamente il disegnino delle margheritine col colore acrilici quindi lo ricordo sempre e niente comunque spero che vi piaccia io vi mando un grosso bacio e ci diamo presto al prossimo video ciao ciao